Un tipo strano, Agiaccio. Mattina e sera, sempre carico di stupore. Troppo ricco per essere descritto con una battuta di colore. La mattina si alza presto, va a passeggiare per dissipare già nell'area gelida il cattivo umore. È di poche parole, Agiaccio. Scrive di getto quel che gli viene e poi sta zitto per ore. Ama osservare il silenzio, le ombre apparenti nella notte, guidare dicendo la verità senza ipocrisie a fare i spenti. Agiaccio è primordiale e lui si scatenano passioni che circolano fuori controllo senza sentire né capire. Discende negli inferi e assiste impotente al suo strazio. È un uomo buono, sazio di vizio. Chiede sempre perdono, pur ancora non credendo in Dio. Tempo fa dimenticò l'io, ingrato, non l'ha più ritrovato tra la sua reale umanità. Avvertiva la differenza individualista nei modi, l'ostilità. Con goffaggine magari ripagherà chi lo conforterà. Agiaccio è autentico, più grande della sua povera vita. Non ha una grande idea dei suoi fratelli. Chi? Quelli? Può sembrare antipatico, a volte persino ingrato, ma non vuole accompagnarsi con chi non lo merita. Agiaccio è un uomo alto, pelato, dicono affascinante. Così lo definisce la gente, non teme di invecchiare. Le rughe in faccia le definisce pelle arata dalla vita. A un disturbo non diagnosticato si definisce normale. Agiaccio è minore, liberamente ispirato, vivo e vegeto. A pranzo mangia tanto, la sera digiuna non avvie di mezzo. Vive le cose con i piedi, a suo modo, senza mezzi pubblici. Non lo sa come precipita nel caos, ma alla fine ci sta bene. Non vuole parlare delle sue quotidiane esperienze sessuali. A un primo sguardo potrebbe sembrare solitario e depresso. Infatti è così. Angustiato da pensieri e altrettanti problemi. Un tormentato dalla vita, insomma, ma armato come si deve. Contro ogni morte, sempre a battagliare, non si annoia mai. Le relazioni con gli altri sono complesse, un po' complicate. D'estate non va al mare, gli piace osservarlo da lontano, dal terrazzo dove può vedere anche i suoi amati sibillini. Agiaccio, inappetente ai quattrini, mangia e beve l'aria fresca. Se ne infischia semplicemente di chi lo adora e di chi lo detesta. Non ci pensa a esaltarsi né a buttarsi giù, gli basta quel che è. Lui è teso a conquistarsi e mantenersi quella specie di lucida follia che nel tempo il destino gli ha cucito addosso. Ne esalta le pose. Agiaccio sa come vanno certe cose. Tutto sommato è un attore. Il mondo purtroppo ha la sua necessità di rappresentazione. La finzione non gli appartiene. Ha smesso di fare inutili domande. Porta avanti il suo canovaccio di allucinazioni. Nessuno chiede, forse a Natale, qualche angelo di gesso che per lui si rianima. Agiaccio, quando sta sovra pensiero, è simpatico, canta e balla davanti al camino. Guarda le scintille del fuoco e si immedesima. È così bambino e anziano allo stesso tempo che fa tenerezza. Agiaccio desiderebbe una carezza, ma è raro che la riceva. Eppure sa di essere amore figlio, fratello, marito, padre, fidanzato. Si è giocato tutta la vita a cercare e dispensare il sentimento. E invece più dolore e tormento ha ricevuto neppure recitato. Agiaccio è un tutto stabilito. È l'infinito irrisolto e incompreso. Eppure spesso si approssima, distice quel che non vuole. Eppure appare impudente, dispensato, perché è inesplicabile. Quando smette di essere insensato, gli amici cari esultano. Agiaccio non si arrenderà mai. In realtà sarà un testimone dell'intimità cieca che niente e nessuno potrà mai sottrargli. Anche sparendo, per ore, per una poesia invisibile migliore. Agiaccio parla un po' alla volta. Tira fuori, ma non si ascolta. Il suo comportamento non è certo ordinario. Lui si definisce fuori orario. Eppure è sempre puntuale nell'andare e partire. Agiaccio non si lascia definire. Le sue sfumature sono profonde. Nessuno potrebbe tirarle fuori in maniera modernissima. Lui così almeno vorrebbe per farle passare inosservate. Una complessità tutta nuova la sua, con effetti particolari. La sua inquietudine talvolta è ribollente. Se la lascia andare sciolta per strada, chi la attraversa può rimanere scottato. Agiaccio sa di essere anch'esso materia banale della vita, ma allo stesso modo di essere mediocrità in rapimento, elemento extrascenico di impossibile rappresentabilità. Agiaccio sente ingombrante la figura trasparente di Dio, indiscutibilmente riconosce, ma non vuol farsi condizionare. Prova a bestimare, ma non lo crede nemmeno il demonio. Agiaccio è contro il mercimonio. Lui vola più in alto che può. Spesso si sente un deltaplano, ma anche sabbia che è veloce scende plana in fondo. Alla clessidra non è pessimista. confida sempre in qualche Cristo che per grazia la rigirerà. Agiaccio è il vizio di paragonarsi a Lazzaro, il miracolato. Uscire dall'oltretomba del fortilizio per lui è gradito sfizio, gode sentirsi ammirato, è consapevole della sua eccentricità. Agiaccio sa che c'è un'enorme differenza tra gioire e sentirsi profondamente infelici, ma non lo mostra con le emozioni per un senso di pudore o forse per paura d'essere crudele. A volte vorrebbe mandare a fanculo tutto, ma poi non scappa. Convive con ciò che gli ruota attorno e a suo modo lo ama. Agiaccio vorrebbe curare e risolvere tutti gli infiniti problemi del mondo e dell'esistenza. Immagina la sua inconsistenza, non si sposerà mai, anche se ha avuto figli, odia le cerimonie, è affascinato dall'orientalismo mistico. Adora gli animali sacri. Paraculo, forse sì, a lui piace stare ed oltrepassare il confine. Agiaccio sa che, come tutti gli uomini, è un po' marcio dentro. Ma sa di non essere pericoloso e nemmeno del tutto inutile. Contamina quello che può con la sua sorprendente innocenza. Una benemerenza forse folle, ma più che mai rivoluzionaria, dell'uomo valoroso che spara addosso amore e far rossire la politica sociale, il chiacchierare inutile, l'intera umanità. Si saprà un giorno che Agiaccio era un mondo variopinto, di rituali desueti e di anarchiche tensioni vivaci, mal sopportate, forse anche invidiate, non ascoltate, passate inosservate e ai più. Agiaccio è uno stratagemma di Dio. Come altro lo si può definire. Bisognerebbe scriverci un romanzo invece che un poemetto. Gli sta stretto questo fuocherello d'artificio illecito d'inferno, di getto scorre. La sua parodia tra poche bestemmie è così sia. Sulle lame dello spunto del disincanto della fantasia, contorte. Agiaccio corre, ha perdifiato verso un senso di libertà tutto suo. Lo guadagnerà spontaneamente, inconsapevole della morte.